E ora presenteremo un brano composto dal gruppo di musica di scuola del Santissimo Sacramento DAP Digital Audio Project Il brano è un brano dedicato alla scuola, scritto e composto dai ragazzi E questa sera ha cantato per cuore In questo mondo nostro Tutto è nuovo e spesso è già adesso A volte ti senti perso, a volte sei in un fosso Ma non è così, no, ma non è così Se l'amore tu non vedrai, il tuo cuore deve aprire Ed allora troverai il piacere di imparare A volte ne greci presto, a volte trovi un posto Un questo qui, proprio questo qui Il Santissimo Sacramento non importa dove sta In un angolo del mondo o nel cuore di una città Qui tu crescerai con gli amici tuoi Famiglia tu sarai Qui tu crescerai Iniziano a noi La vita affronterai In questo mondo nostro Tutto è nuovo e spesso è già adesso A volte cresci presto, a volte trovi un posto Come questo qui, proprio questo qui Il Santissimo Sacramento non importa dove sta In un angolo del mondo o nel cuore di una città Qui tu crescerai con gli amici tuoi Famiglia tu sarai Qui tu crescerai Qui tu crescerai Qui tu crescerai insieme a noi La vita affronterai Il Santissimo Sacramento non importa dove sta In un angolo del mondo o nel cuore di una città Qui tu crescerai Qui tu crescerai con gli amici tuoi Famiglia tu sarai Qui tu crescerai insieme a noi La vita affronterai Qui tu crescerai Qui tu crescerai Qui tu crescerai Qui tu crescerai famiglia tu sarai qui tu crescerai qui tu crescerai qui tu crescerai qui tu prenderai qui tu crescerai famiglia tu sarai Santissimo Sacramento del Santissimo Sacramento del Santissimo Sacramento del Santissimo Sacramento del Santissimo Sacramento famiglia tu sarai grazie grazie a nome del aspetta aspetta vieni qui la classe ha scelto con una votazione ma loro non erano veramente coscetti il il loro capitano il ragazzo che più si sono impegnati durante l'anno l'hanno scelto loro perché per me era veramente un ex-equo e quest'anno il capitano e quindi chi vince il premio del Digital Audio Project 2015 è Valerio Barrago grazie grazie e per noi al prossimo anno e tutti vai grazie 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 grazie